Fare investimenti immobiliari senza soldi è possibile? Sì, perché là fuori è pieno di gente che ti vuole convincere dell'idea che sia possibile acquistare un immobile, ristrutturarlo e rivenderlo senza denaro tuo. Puoi partire da zero e riuscire a crearti una rendita passiva da immobili senza il minimo capitale di partenza. È possibile? Facciamo la dovuta chiarezza in questo video. Iniziamo! Qualche giorno fa a pranzo con i miei soci immobiliari come sai se segui questo canale sai che facciamo operazioni immobiliari e in questo momento abbiamo aperti 5 cantieri bene discutevamo di come fare l'imprenditore nel settore immobiliare sia un po' diverso da come viene venduto da pseudo formatori finanziari esperti di immobiliare online perché molto spesso ti viene venduto il messaggio che puoi investire in immobili senza soldi però poi ci si scontra con la dura realtà che per acquistare un immobile è più facile farlo se hai soldi. Ok in questo video cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché queste figure sono molto simili alla mia figura che si occupa di formazione ed ha un portale che si chiama gpinvest.it ci occupiamo di formazione e quando vuoi promuovere certi servizi come percorsi formativi piuttosto che altri servizi all'interno dell'offerta gpinvest devi cercare di fare capire le opportunità del servizio che come questo servizio ti permetterà di migliorare determinati aspetti della tua vita. Bene quando si parla di formatori nell'ambito degli investimenti immobiliari e puoi trovare tu il nome del formatore di turno anzi metti in pausa e scrivimelo qui nei commenti bene molto spesso per convincerti ad acquistare determinati servizi un corso un evento eccetera queste persone vanno a lavorare su determinate leve psicologiche che non hanno niente a che fare con la matematica dell'investimento immobiliare con l'aspetto imprenditoriale dell'investitore immobiliare queste leve psicologiche potrebbero essere legate magari a tue insoddisfazioni personali non sei soddisfatto con il tuo lavoro allora spostati nel settore immobiliare perché la casa è un valore operare in questo settore ti darà a pagamento e ti farà sentire una persona migliore oppure vuoi crearti delle rendite passive perché il tuo lavoro è a rischio e prima o poi rimarrai disoccupato bene con gli immobili riuscirai a crearti bla 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 queste sono le storie più frequenti che vengono raccontate da questi formatori online il punto è che bisogna stare molto attenti quando si promuovono determinati servizi nel senso che noi stiamo molto attenti come GP Invest a parlare di opportunità ma non vendere fumo ok dall'altra parte invece noto ed è sotto gli occhi di tutti che ci sono dei formatori che riescono a manipolare e distorcere così tanto la realtà fino ad arrivare a frasi tipo che puoi comprare degli immobili senza soldi bene in questo video voglio farti capire meglio il lavoro dell'investitore immobiliare anzi definiamolo correttamente imprenditore immobiliare perché l'investitore immobiliare per definizione dovrebbe essere una persona che compra un immobile e se lo tiene e percepisce un reddito da questo immobile quindi compra una casa in affitto e ti percepisci il tuo reddito dall'affitto dell'immobile purtroppo la parola investitore immobiliare viene associata ad un'attività di impresa che è quella invece dell'imprenditore immobiliare cosa vuol dire? è una persona come noi nelle nostre operazioni che prende un immobile, lo acquista, lo ristruttura e lo rivende quindi è un'attività di impresa anche a livello legislativo è un'attività di impresa infatti tu puoi avere 100 immobili in affitto e farlo come persona fisica e paghi la tua cedolare secca se vuoi la cedolare secca e nessuno ti verrà a dire niente perché ci paghi le tasse ed è reddito da investimento ma tu non puoi fare 100 operazioni immobiliari di acquisto, ristrutturazione e rivendita come persona fisica perché è attività di impresa e quindi serve una società quindi già la terminologia investitore immobiliare quando si fanno operazioni di acquisto, ristrutturazione e rivendita è sbagliata bisognerebbe chiamarla col giusto termine che è quindi attività da imprenditore immobiliare oppure un'attività di trading immobiliare perché è un'attività di breve termine e c'è un rischio imprenditoriale quindi chiamiamo chi fa queste operazioni col giusto nome cioè imprenditori immobiliari all'interno di un'attività di impresa dobbiamo capire che chi fa operazioni di questo tipo non sta inventando niente di nuovo alla fine è come se fosse un commerciante cioè un'impresa compra qualcosa, un immobile ok magari un immobile degli anni 70 che è tutto da ristrutturare lo ristruttura e lo rivende sta per caso sviluppando qualcosa di nuovo come non lo so un'azienda come Apple che ha dei brevetti oppure Google che ha della ricerca e sviluppo per migliorare il prodotto no, ci stai chiamando degli artigiani un muratore, un idraulico, un elettricista rifai gli impianti e rimetti l'immobile sul mercato quindi quando sei un imprenditore immobiliare stai facendo un'attività da commerciante potremmo dire perché compri una cosa e la rivendi e in certi casi anche da artigiano o direttamente o indirettamente se assumi degli artigiani che facciano questo lavoro per te quindi non è un'attività come appunto un'impresa tecnologica che deve anche migliorare il prodotto sì ok, una volta che hai scelto i colori, le mattonelle insomma i materiali aggiornati all'epoca in cui stai vivendo cioè che siano adatti al design del 2020 la ricerca è finita quindi trattandosi di un'attività da commerciante non è poi molto diverso ad avere un negozietto che commercia qualunque altra cosa dai telefoni usati a automobili ok, è un'attività molto simile a quella di un rivenditore di auto nuove usate prendi un'auto, magari un'auto storica ok, è un po' rotta, la metti a posto e la rimetti sul mercato e chiaramente punti a guadagnare dalla differenza del prezzo di vendita rispetto al prezzo di acquisto più i costi per metterla a posto è un'attività da commerciante quindi abbiamo capito che la terminologia investitore proprio non c'entra niente e trattandosi di attività da commerciante dovremo confrontarla con altre attività da commercianti bene, esistono attività da commercianti che si possono fare senza soldi? no, perché ad esempio se tu vuoi ristrutturare una Ferrari F40 la comprerai, ti costerà un milione di euro non so quanto siano le valutazioni ci spenderai 100-200 mila euro per metterla a posto e magari la vendi a un milione e mezzo quindi servono soldi bene, nel mondo dell'immobiliare ci sono oggettivamente delle opportunità per fare delle operazioni senza denaro nel senso che il denaro può arrivare in un secondo momento la più classica è la cessione del compromesso quindi tu, Mario Rossi di turno, vai in giro trovi un immobile interessante vai a firmare un compromesso di acquisto che di fatto è un contratto in cui ti impegni ad acquistare l'immobile ad una data futura la data del rogito magari lasci una caparra e puoi cedere questo compromesso a me, magari che voglio l'operazione già pronta, impacchettata hai comprato l'immobile a 100 mila euro non vuoi fare l'operazione tu perché magari non hai soldi per portare avanti la ristrutturazione ma la vuoi cedere ad un'impresa come la mia che fa operazioni immobiliari me lo vendi a 110 io comunque margino perché riesco a portare avanti l'operazione e a rivenderlo e tu ti sei fatto 10 mila euro girando un contratto perché a rogito ci vado io allora questo è un meccanismo un po' complesso se non conosci queste dinamiche ma fidati in questo caso tu potresti guadagnarti magari 5-10 mila euro cedendo un contratto di acquisto in questo caso ci sono oggettivamente delle opportunità ma la domanda è quante e soprattutto la domanda è ma queste opportunità ci sono se mi metto io con la mia società ad andare a cercare questi immobili nel senso che se io che mi muovo con una società ho dei soci e abbiamo molte relazioni tra gli agenti immobiliari della mia zona e tu che sei nella mia stessa zona magari hai anche le relazioni ma non hai la potenza di fuoco in termini di capitale investibile che abbiamo io e i miei soci entrambi andiamo da un'agenzia immobiliare secondo te saranno più interessati a dare questo immobile a te che magari un domani troverai qualcuno a cui cedere il compromesso di acquisto o a me e ai miei soci che compriamo questo immobile cash tutto in una volta se è alla nostra portata quello che non ti viene spiegato dai formatori è che certamente puoi fare delle operazioni senza soldi cioè matematicamente giuridicamente si potrebbe fare ma dal punto di vista delle opportunità all'interno di un mercato e poi i mercati non sono tutti uguali ho già detto che Modena ad esempio città in cui vivo e opero ha determinate opportunità che non è detto che siano uguali in altre città d'Italia bene all'interno dello stesso mercato chi non ha soldi sarà sempre secondo rispetto a chi ha possibilità di acquistare immobili non solo con i soldi ma anche senza mutuo se vai da un agente immobiliare e gli fai capire che tu puoi acquistare un immobile senza fare mutuo chiaramente lui avrà un occhio di riguardo per te perché? perché l'agente immobiliare giustamente guarda al suo orticello e vuole portarsi a casa la provvigione il prima possibile quindi tra un cliente come te che devi andare a fare l'accessione del compromesso o io e i miei soci che invece compriamo con liquidità gli immobili chiaramente sarà portato a proporre più operazioni a me rispetto a te quindi sfatiamo questo mito è possibile fare operazioni senza soldi ma è dannatamente difficile ed è talmente difficile che mi piacerebbe sapere quante persone ci riescono ok? e a mio parere guardando le statistiche di questi corsisti perché le testimonianze ci sono ma ci sono solo su quanto è bello il corso che hanno acquistato dal formatore di turno io non vedo molte testimonianze di ero povero in canna prima e grazie a questo corso adesso sono diventato un imprenditore che acquista un immobile al mese e ha un giro d'affari di non so due milioni di euro non ne vedo molte qualcuna c'è di sicuro ma percentualmente non mi sembrano rilevanti quindi è chiaro che sotto c'è una profonda iper semplificazione di una realtà molto più complessa su come avvengono queste dinamiche di imprenditoria nel campo dell'immobiliare e c'è una malizia comunicativa nello spiegare le cose molto più semplici di quanto in realtà siano ok? se no sarebbe più difficile venderti il corso come vedi non ho conflitto di interesse nel senso che noi ci occupiamo di finanza personale di investimenti operiamo sia nel mercato finanziario sia nel mercato immobiliare non ho ragioni per parlarti bene di una cosa piuttosto che l'altra quello che ci preme su questo canale è trasmettere vera educazione finanziaria e sfatare certi miti legati a opportunità di investimento che ci sono e adesso ti spiego un esempio di vera opportunità di investimento ma che non sono gratis che non sono a costo zero sono opportunità di investimento se hai soldi ok? un esempio di un'operazione che sarà oggetto di un altro video è un'operazione che si sta chiudendo a breve in cui prendiamo un immobile e lo rivendiamo marginandoci senza fare alcun tipo di ristrutturazione neanche una verniciata di bianco ok? lo compriamo l'abbiamo comprato molto bene con soldi liquidi senza mutuo senza niente un'offerta che il venditore non poteva rifiutare e lo rivenderemo marginando la data del rogito dovrebbe essere inizio novembre senza aver speso 10 euro di ristrutturazione ok? io l'immobile non l'ho neanche visto ti dico solo questo sarà oggetto di un altro video quindi le opportunità di trovare arbitraggi di questo tipo si chiamano in termine tecnico cioè opportunità di comprare e rivendere la stessa cosa marginando senza portare valore in questo caso all'immobile ma semplicemente facendo una pura speculazione le opportunità nel mercato immobiliare ci sono ok? ci sono se hai il network giusto se hai la disponibilità finanziaria di poter buttare giù 100-150 mila euro in 24 ore se lo puoi fare di opportunità in mercati chiaramente in un mercato come Milano sarebbe molto più difficile in un mercato come quello di Modena da 2300 compravendite all'anno circa il comune di Modena ci sono queste opportunità perché di gente che ha questa disponibilità che sono 150 mila non sono miliardi ok? però non sono tantissime magari c'è qualche centinaio di persone che è sul pezzo e potrebbe fare operazioni di questo tipo così velocemente ok? sono tutti numeri relativi è per farti capire un concetto non sono cifre da far girare la testa ok? ma sono cifre che relativamente a questo mercato ti danno comunque una certa potenza di fuoco e quantomeno ti fanno emergere rispetto a quella miriade di investitori immobiliari perché non c'è agente immobiliare che non ci dica guarda c'è una quantità di gente che si spaccia per investitore immobiliare che vengono qua ma non hanno soldi quindi alla fine chiamiamo voi perché se vogliamo chiudere un'operazione e trovare un acquirente nel giro di 2-3 settimane so che voi avete la disponibilità ma è pieno di gente che ci contatta e qui parlo da agente immobiliare ci contatta senza poi avere i soldi per poter comprare bene se siamo arrivati a questo livello di distorsione in cui il commerciante di una delle cose che costa di più nella vita di una persona lo dico molto spesso l'acquisto della casa e degli immobili è una delle spese più grandi all'interno della vita di una persona quindi è un commerciante di cose che costano molto di più che non un telefono un'auto una casa un immobile ha un costo molto importante richiede molti capitali ok piccolo grande che sia comunque parliamo di decine di migliaia di euro almeno bene se c'è qualcuno che è riuscito a convincerti che tu puoi fare operazioni in questo settore senza soldi dobbiamo tutti ammettere che la capacità persuasiva di queste persone è veramente invidiabile sono stati bravissimi ma purtroppo ti hanno riempito di falsità è sicuramente possibile ma in questo video ti ho fatto capire che è dannatamente difficile poterlo fare perché tra te che devi andare a chiedere un finanziamento devi trovare qualcuno a cui cedere il tuo compromesso e me e i miei soci che andiamo lì con i soldi contanti chiaramente l'agente immobiliare proporrà l'opportunità a me è vero ci possono essere altre eccezioni come il saldo estralcio le aste sicuramente ci sono delle opportunità anche lì ma allora dovremmo anche cercare di capire qual è il tempo necessario per portare a caso un'operazione di questo tipo e quindi qual è il tuo costorario come imprenditore per riuscire a materializzare un'operazione di questo tipo la nostra esperienza è che è molto difficile e se invece hai la rete di contatti giusti puoi operare nel mercato libero quello delle agenzie immobiliari nel mercato del tuo territorio in modo molto efficace se ci sono le condizioni a cui facevo riferimento prima fammi sapere nei commenti cosa ne pensi se anche tu hai fatto operazioni di questo tipo se ti sei scontrato con la dura realtà che per acquistare un immobile servono soldi e qual è il formatore di turno che ti fa più ridere in termini di vendita del sogno dell'immobiliarista senza soldi che raggiunge la libertà finanziaria nell'arco di 3, 4, 6 mesi fammelo sapere nei commenti con questo è tutto ci vediamo in un altro video ciao vuoi sapere come abbiamo aiutato migliaia di persone a diventare maggiormente consapevoli nella gestione delle proprie finanze e dei propri investimenti? se sì ti invitiamo ad iscriverti ad un corso intitolato divento un investitore consapevole primo è gratis secondo è stato creato nel tuo esclusivo interesse terzo ti insegnerà dei concetti di finanza personale di gestione del tuo investimento veramente fondamentali concetti che avrebbero dovuto insegnarci a scuola ma che purtroppo nessuno ci ha mai spiegato puoi accedere al corso in modo totalmente gratuito alla pagina www.gpinvest.it benvenuto se questo video ti è piaciuto clicca mi piace e ci vediamo nel prossimo video